Ottimo esordio casalingo del città di Nicosia nella prima giornata del campionato di pallavolo maschile di serie D e si inizia proprio dove era terminata la scorsa stagione, di fronte agli avversari del Gela, l'unica squadra che riuscì a battere i bianco-rossi anche se in casa nicosiana i gelesi furono facilmente superati. Il città di Nicosia ha superato gli avversari in 5 combattutissimi 7, 25-19, 21-25, 25-19, 22-25 e 15-10 nel tie-break. La squadra ha saputo dimostrare grinta, forza e concentrazione sapendo piegare nel momento giusto il difficile avversario. I bianco-rossi quest'anno hanno mantenuto la preziosa guida tecnica di Franco Corsale. Il team nicosiano è un mix di esperienze e giovani promesse che sapranno dare senz'altro il massimo in ogni match. Domenica prossima i pallavolisti nicosiani affronteranno fuori casa nel primo derby stagionale la meeting di Troina, squadra che ha perso fuori casa contro il Modica per 3-1.